Ed eccoci qua con un altro video io sono Issam, oggi vediamo una telecamera termica generalmente le telecamere termiche costano veramente tanto e sono davvero molto molto utili e per questo che la gente che ne ha bisogno li compra anche se costano tanto oggi però vediamo una telecamera termica che costa poco a basso costo vediamo come si utilizza, per che cosa si utilizza e quanto può essere utile in tantissimi campi questa è la telecamera termica, arriva nella scatola anche un cavetto USB, micro USB perché questa telecamera termica oltre a farci vedere l'immagine adesso accendiamo la telecamera, ci mette un pochino ad accendersi non è una telecamera normale, funziona in modo molto interessante perché qualsiasi materiale che abbia una temperatura maggiore dello zero assoluto che è meno 273 gradi emette delle radiazioni che questa telecamera che io chiamo telecamera in realtà non è proprio una telecamera ma trasformando le radiazioni a infrarossi di diversa intensità in un'immagine di diverso colore tramite il sensore che effettua diverse misurazioni al secondo e mandandola a un processore che poi le trasforma in un'immagine infatti vedete che è un pochino lento a trasformare queste rilevazioni in immagine perché effettivamente sono delle rilevazioni che poi dopo vengono elaborate e trasformate in immagine e anche questa è la differenza tra una telecamera a basso costo e una che è professionale comunque per la maggior parte delle applicazioni che potrebbero servirci questa telecamera basta e avanza a cosa serve il cavetto usb micro usb in dotazione in realtà serve a due cose la prima è a caricare la batteria a litio che non arriva non è in dotazione ed è una batteria con una dimensione 18500 e vi lascio nella descrizione del video il link a una batteria adatta perché come potete notare qua io ho aggiunto un pezzettino di magnete perché questa batteria in realtà non è adatta non ha il bottone qua è piatta e quindi quando la inserite non fa contatto e perciò dovrei aggiungere questo pezzettino qua per risolvere il problema ed essendo una batteria ricaricabile agli ioni di litio si può ricaricare direttamente tramite il connettore usb che si trova sul lato superiore della telecamera non solo questa telecamera ha la capacità di effettuare delle fotografie cliccando su questo bottone che conserva nella sua memoria e una volta collegata la memoria via usb al nostro computer compare la memoria del dispositivo che è una memoria totale di 16 mega in realtà non serve tantissime tantissime memorie anche perché la risoluzione delle immagini è veramente piccola ed è quello che ci serve comunque non serve una risoluzione molto alta specialmente che questo apparecchio abbiamo detto non costa tanto la risoluzione è 176x220 pixel vi faccio vedere quanto grossa è l'immagine ecco adesso zoom qua ci fa vedere tutto praticamente quello che vediamo sullo schermo dalla temperatura dove abbiamo posizionato la croce in mezzo alla temperatura minima misurata all'interno dello schermo e la massima misurata all'interno dello schermo che ovviamente cambia il colore della temperatura maggiore rispetto alla temperatura minore nella scatola arriva un alimentatore da 5 volt 2 ampere con il quale possiamo caricare anche il nostro cellulare ed è con una presa americana e arriva anche il manuale di istruzioni in lingua inglese il manuale di istruzioni è molto chiaro e spiega praticamente tutto ci sono delle spiegazioni interessanti sul funzionamento del dispositivo sulla telecamera abbiamo il bottone di accensione e spegnimento il bottone per trasformare l'unità di misura da gradi centigradi a fahrenheit e abbiamo anche quest'altro bottone cos'è quest'altro bottone che si chiama pallet adesso come potete notare la mia mano emana vari colori a seconda dell'intensità della temperatura della mia mano però a volte serve vedere in un altro modo con meno gradazione ovvero distinguere solamente la temperatura più alta dalla temperatura più bassa degli oggetti così da distinguerli meglio a cosa serve questo? serve a cercare per esempio persone o animali all'interno per esempio di un bosco dove ci sono altre cose che possono riflettere la temperatura del sole o riflettere una luce dove possiamo confondere queste persone vedendo tantissimi puntini rossi gradazione di colore qua invece abbiamo solamente due colori distinti dove riusciamo a vedere più chiaramente gli oggetti e distinguerli a cosa serve invece l'altro colore? beh per esempio stiamo guardando dei componenti di un circuito elettrico che si è bruciato e vogliamo vedere dove in generale i componenti emanano un calore però riusciamo a distinguere il componente che si è bruciato in particolare che si surriscalda molto di più degli altri per esempio possiamo anche capire se il nostro dissipatore del computer funziona correttamente o meno basta puntare la telecamera verso il computer e vedete che il punto più caldo del computer è dissipatore non è il processore vuol dire che sta funzionando correttamente lo stesso vale anche per la scheda video tutti i componenti elettrici per esempio se abbiamo delle perdite di acqua calda all'interno del muro nelle tubature ecco possiamo rilevarlo volevo far vedere un'altra cosa interessante vedete questa parte della batteria anche questa parte superiore della batteria ecco è tutto caldo però adesso andiamo a vedere questo lato qua della batteria anche questo è caldo vediamo quest'altro lato della batteria è freddo quindi dove c'è il microchip non è quello il problema ma il problema è proprio le celle quindi questa batteria da buttare via perché è andata non si può utilizzare è anche pericolosa quindi meglio allontanarla dalle altre batterie per quanto riguarda invece questo bottone ci fa vedere direttamente le immagini che abbiamo registrato all'interno della memoria e possiamo anche scorrerle tutte tramite il bottone destra e sinistra e già che siamo qui vi faccio vedere un altro apparecchio interessante che è un piccolo apparecchietto costa pochissimo che utilizzo di solito per scaldare le cose dall'interno serve per tante applicazioni io utilizzo fondamentalmente per la saldatura a induzione infatti è un apparecchio che funziona a induzione come funziona? intanto andiamo a vedere cosa succede se lo colleghiamo alla batteria se si surriscalda o meno ok questo è l'apparecchio non si surriscalda tanto infatti poco calore emana però andiamo a vedere cosa succede se mettiamo all'interno questo pezzo di ferro adesso il pezzo di ferro vedete che non si vede neanche nell'immagine lo metto all'interno vediamo cosa succede ok adesso sta rilevando una temperatura maggiore e nonostante che sia molto spesso questo pezzo metallico vedete la temperatura del metallo quanto più alta rispetto alla temperatura dell'apparecchio perché funziona a induzione infatti l'apparecchio non si scalda ma il metallo solamente che si scalda a causa dell'induzione di corrente elettrica all'interno del metallo infatti la telecamera termica è una telecamera relativa perché visualizza la differenza di temperatura tra l'oggetto più freddo e l'oggetto più caldo o emana più infrarossi che compare nell'immagine come al solito vi lascio il link che occupa un sconto a questo aggeggio molto utile non solamente in elettronica ma anche in agraria per esempio per vedere lo stato di salute delle piante o ci sono degli insetti sopra o anche dei roditori e in un sacco di altri campi perché vi fa vedere cose che non potete vedere sempre nella descrizione del video ma anche qui nel frattempo vi saluto e ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti